Gli ultimi 40 minuti di stagione regolare da apripista playoff per otto squadre, epilogo dell'annata per gli altri team dalla nona alla sedicesima posizione finale della Serie A, che saluta Cremona a retrocessa lo scorso weekend, impegnata tra le mura amiche con la Grissin Bon Reggio Emilia, in un match che dirà tanto sugli incroci in post-season. La Sidiga Savellino sarà di scena a Trento contro quella che potrebbe essere avversaria della Scandone nei quarti di finale Scudetto, al pari della Reggiana e del Banco di Sardegna Sassari, impegnata in trasferta al Palamaggio contro Caserta. Lupi dal terzo posto blindato che scopriranno l'avversaria playoff, la sesta classificata al termine della regular season. Quota 34 per Sassari, Reggio Emilia e Trento, scontri diretti e differenze canistri in caso di parità confermata, con tre vittorie ad assegnare la Dolomiti Energia alla Sidigas per una prosecuzione dello scontro dal finale di campionato alla Griglia Scudetto. Nel cambio di posizione del trio c'è anche la variabile Juve Caserta, pronta a confermare l'orgoglio mostrato domenica scorsa al Del Mauro di Avellino e in piazza con i tifosi venerdì anche a Castelmorrone contro la Dinamo. Ultimo appuntamento stagionale per i ragazzi di coach dell'Agnello, con la piazza bianconera che attende novità dal sindaco Carlo Marino e dal presidente Lello Iavazzi per la prosecuzione dell'attività sportiva in massima serie anche per il 2017-2018.